La consigliera Bismuto ha lasciato il gruppo DEMA, c'è un'altra consigliera che in procinto ha almeno annunciato di voler fare la stessa cosa, come si leggono questi segnali, cosa sta accadendo al gruppo DEMA? La maggioranza è forte e solida e DEMA non è mai stata così forte come in questo momento. Basta, questa è la mia dichiarazione, è la verità, secca e precisa. Grazie.